Non voglio il suo aiuto, ma non capisce. Io lo devo fare. Devo ucciderla. O lui ucciderà me. Affinché il quaderno abbia effetto, occorre avere in mente il volto della persona di cui si scrive il nome. In tal modo si evita di colpire eventuali omonimi. Se entro 40 secondi dopo aver scritto il nome vengono indicate le cause della morte, questa avverrà nella maniera stabilita. Se le cause non vengono specificate, le vittime designate moriranno per arresto cardiaco. Dopo aver indicato le cause della morte, si hanno 6 minuti e 40 secondi per scrivere eventuali dettagli sulle condizioni della stessa. Questo vuol dire che si può anche scegliere tra una morte rapida e una lenta agonia. Calmati, campione, sta calmo. Lascia qualcosa per gli altri bambini. Ecco, bravo. Carini questi pantaloncini. Allora? Ehi, biondina, posiziona la mazza dall'altra parte. Vedrai che la palla va più lontano. Allora. Ottimo backswing, ottimo backswing. Niente male, campione. La palla devi temerti. Hai molto stile. Ve l'ha cavata la grande, siete bravi ragazzi. Torniamo a Berk a prendere le reti. La cosa si risolverà con il semplice trasferimento di uno scalderone. Saremo uniti, più forti e liberi. Sconfiggeremo Papillon e poi potremo fuggire insieme su un'isola. Saremo lontani da tutto. Vivremo esclusivamente di frutta e avremo un piccolo criceto e lo chiameremo. Quella battuta è solo una frase tra maschi e quell'importante è che le torture l'hanno cambiato. Per me l'hanno squilibrato. Sei veramente uno schifo, schiatto. Insomma, ti trovo casina. Carina. Ah, ah, ah.